...potente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Indulcentiam, absoluzionem, et reglisionem omnium peccatorum vestorum, spazium vere et fructose penitentie, corsem per penitens, et emendationem vite, grazie am et consolationem Sancti Spiritus, et finale in perseverantia, in bonus operibus, tribuat vubis, omnipotent et misericors Dominius. Amen. Et benedizio dei omnipotentis, Padris et Fili et Spiritus Sancti, descendo al superus et male a sempre. Amen.